Musica Adria 47,1 6 a 2 secondi da me Wow, l'hai sentita l'anteriore? Non, non, non Non, non, non Non, non Non, non Com'è, Asinti? Con un moto fisico, l'anteriore. Con un moto fisico, l'anteriore. L'anteriore che galleggia un po'. E quando la cosa è, devi... Ammorbidire. Non lo so. Ammorbidire. Non lo so. L'anteriore è stabile, trastore. Magari il rigidire è dietro, perché ho visto che l'hanno lasciata molle. L'olio, non freddo. Guarda che punto attacco fa tanto. 47.2, bravo!